Carenza di personale e lungaggini burocrati che stanno mettendo in seria difficoltà famiglie al cui interno ci sono minori con disabilità. A molti di loro infatti nonostante l'anno scolastico sia iniziato da oltre un mese ancora non viene assegnato l'insegnante di sostegno. Ma c'è un problema anche legato alle revisioni perché se queste non dovessero essere effettuate nel giro di pochi giorni c'è il serio rischio che le famiglie debbano rifare il procedimento tutto da capo e ovviamente con altro tempo che si perde. Il consultorio del distretto Asrem di Sernia infatti non riesce a gestire un bacino d'utenza diventato sempre più ampio a fronte di un aumento delle domande però in questi ultimi tempi lo stesso consultorio è costantemente sotto organico se fino a qualche anno fa l'unità multidisciplinare di valutazione che si occupa per l'appunto di verificare la necessità del sostegno poteva contare su diverse figure professionali tra cui psichiatri, psicologi, assistenti sociali l'enorme molle di lavoro è stata assegnata ad un solo psicologo che per di più non è nemmeno inquadrato a tempo pieno insieme a lui un neuropsichiatra infantile a cui però sono state assegnate anche altre mansioni. Alloro l'arduo compito di coprire le richieste di tutte le scuole di ogni ordine e grado dell'intera provincia di Sernia. Una situazione davvero preoccupante di cui si è occupato anche il partito comunista dei lavoratori. Il coordinatore regionale Tiziano Di Clemente dopo aver incontrato alcune famiglie interessate dal problema ha chiesto all'azienda sanitaria alla regione di intervenire per trovare nel più breve tempo possibile una soluzione in modo da accelerare le tempistiche. Quanto accade qui dietro al consultorio però è solo l'inizio di un iter burocratico lungo e complesso. Perché dopo la visita al consultorio il carteggio passa all'Inps e poi ancora all'ufficio scolastico e infine alla scuola che deve elaborare un piano didattico basato sulle esigenze dell'alunno. Insomma potrebbero passare ancora diversi mesi prima che questi studenti possano essere eseguiti da un insegnante di sostegno.